La Caria, Meloni, Calpuccini, Fiorini, Becciolotti, in panchina a disposizione dell'allenatore di... Signor... Balloni, Ceci, Coppini, Morbidelli, Picchio, Cibriani, Giucci. L'associazione sportiva Piedra Vita scende in campo con Mencaroni, Covarino, Ceccarelli, Ferroni, Edoardo, Giacometti, Bucciarelli, Emanuelli, Angilezza, Dominici, Marchesini, Tomassoli. In panchina a disposizione dell'allenatore, signor Pelliccia, Bianconi, Abbattini, Bella Vita, Pannacci, Fumi, Cicconi, Moldovano, Ferroni, Riccardo, Ciuccarelli. A tutti un buon divertimento. Ricordiamo che... Dai, io credo! ...è il servizio barrio con torta al testo, salsicce e prosciutto. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.